Se hai aperto questo video probabilmente vuoi sbloccare questa skin felina Per sbloccare questa skin hai bisogno di 50 livelli accanto che possiamo vedere anche qua Come falli? Velocemente lo spieghi in questo video ma prima mi raccomando Vai a lasciare un bellissimo like se vuoi ricevere anche più tantissimi XP e ora incominciamo Codice coding gamer 52 Ok questo qua appunto è il codice ma manca l'ultimo numero Per ditelo mi raccomando prima codice gradore e coding gamer 52 L'ultimo numero è 9 Vabbè ora giochiamo questa qua la mappa da perché non deve essere pubblica ma privata perché se ne dice dove andrà Allora perfetto una volta che siamo qui dobbiamo andare e dobbiamo iniziare diciamo questa challenge Dobbiamo andare su questo cerchio bianco Una volta che siamo qui dobbiamo fare un balletto potete fare quello che volete Ci muoviamo un poco e dovrebbe uscire qui il tasto con il punto interrogativo Che andiamo a premere ci porterà in questo posto e ora ci vediamo fra mille secondi Infatti ragazzi una volta che siamo qui dobbiamo mettere il codice che sarebbe 2007 Andiamo a premere la via e ci porterà in questo posto nel frattempo ci inizierà dagli rischi Scendiamo esattamente qui giù e andiamo a prendere il jetpack Ora Perfetto dobbiamo andare esattamente qua quindi Ci andiamo Beh cosa sto dicendo comunque saliamo esattamente qui sopra una volta che siamo qui abbiamo la porta E andiamo qui sul tavolo e prendiamo il tasto segretabile Così ci dovrebbe incominciare a dare davvero tantissimi XP Perfetto adesso dobbiamo andare esattamente qua dove si trova quest'albero Quindi ci andiamo Ok una volta che siamo qui dobbiamo andare qui dietro il tasto segretabile Ok perfetto noi andiamo esattamente qui a questa casa qua Una volta che siamo qui entriamo dobbiamo salire appunto qua le scale E qui dobbiamo trovare il tasto col punto interrogativo Lo andiamo a premere e ci dovrebbe incominciare a dare alti tanti XP Questa volta andiamo a questa casa qui E una volta che siamo qui il tasto si troverà la nostra destra Abbiamo questa porta e qui si troveremo il tasto Ora andiamo alla casa rossa qui in fondo esattamente questa Ok ora andiamo ad aprire la porta andiamo qui avanti E qui troveremo il tasto con il punto interrogativo Ultimo tasto ritorniamo in questo luogo Quindi andremo esattamente in questa porta Quindi esattamente in questo In questo punto qui troveremo queste piante Troveremo il tasto con il punto interrogativo Noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando Codificatore Codingamerciportano2 Ciao ragazzi bye